Nel senso, intanto la sentenza della Cassazione diceva soltanto che bisognava motivare un po' meglio sotto il profilo della umanità nello scontare la pena, cosa che avviene in un polo specialistico di alta professionalità come quello di Parma. Poi c'è una legge, io sono per l'applicazione della legge in tutti i momenti e noi abbiamo una legge secondo la quale i collaboratori possono avere tolto il 41 bis quindi se Rina vuole alleggerire il 41 bis può collaborare magari incominciando a fare i nomi delle persone importanti prima delle stragi che lo hanno contattato.